Musica Bellissimo a tutti raga Oggi siamo finalmente tornati su Detroit Become Human Prima di iniziare questo video come al solito vi chiedo semplicemente di iscrivervi Attivare le notifiche e ovviamente anche di lasciare mi piace E ovviamente condividete il video Vi aspetto Avanti copiate il link e mandatelo sulle storie di Whatsapp, Instagram Quello che volete Voi semplicemente il link e inviatelo a qualche vostro amico Su Bene Fatto? Ok Direi che possiamo continuare il gioco E' lato Santo Ho tipo dato una cosa Ho tipo dato una gamba a taschi Oh mio Dio No, poi Viiiiiii Per... Sia via? Ok Madonna, tranquillo Perchè sono scaricato? Ma perchè non mi sorprenderete? Allora facciamo la fata La diagnosi Bene Cos'è? Odito Poi tipo Avevo visto anche le gambe Ecco appunto Tutte due tra l'altro E Allora questo c'è Questo c'è No no ho letto l'ultimo Va bene Sostituisci le gambe Va bene scopriamo che cos'è Quello Mi parte Ci stiamo trascinando come i bei soldatini Comunque Marcos è un figo anche da smontato C'è in senso giusto per farvi capire Ok compatibile guarda che roba Intanto ci sediamo Ci facciamo una bella chiacchierata E Come di voi No ma dai che figo Questo è bello di essere un android Cioè in senso proprio attacco e stacca praticamente Non credo faccia male quindi Va bene così E' leggermente diversa dalla pelle però ok Intanto noi continuiamo a strisciare Che ho mai riso a parlare Incompatibile Ti pare che ci sta una gamba compatibile Davanti l'altra no? Lisce A parte che bella Allontana Era vivo? Sono gamba Ok Compatibile Va bene questa Sediti Ok va bene così C'è una gamba compatibile Credo faccia male quindi insomma A parte che è già mezza staccata quella gamba Quindi Non bene in quel modo Ok intanto le gambe le abbiamo recuperate Ok Alzati e cammina Bando la dai La discarica Va bene Abbiamo un pochino di cose rotte però ok Intanto le gambe le abbiamo fatte Capitana C'è un luogo dove saremo libri Trova Jericho Trova Jericho Chi è Jericho? Quella puttana di tua madre Non pensavo un jumpscare così in Detroit Cioè non pensavo un jumpscare così in Detroit Era inaspettato Ok questa è abbastanza inquietante ma nello stesso tempo è che figa Non chiedetemi perché ho detto che figa ma per me è figa Ok sembrava una frase alla Kira Dove stai andando via da te Ok intanto ci siamo levati dall'ami Però Mancano quei pezzi Trova l'uomità ottica Trova il regolatore della... Ah il regolatore della pompa Ah ancora ok Allora Intanto l'uomità ottica Prima di tutto Guarda Incompatibile Speravo di avere buco di chiul e di trovarlo per primo Non so Mi è appena sveluto uno davanti a me quindi Faccio svel... Sono talmente bello che faccio svelire le persone Potresti anche prenderlo da lui adesso In teoria No Regolatore ottico controllo Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante Sì è compatibile grazie Che strano Ciao Ciao Sono un android a K700 Progettato per se Eri Cosa poto fare per te Danni tuo occhio Ciao Il mio programma ha rilevato un'anomalia Contattare il centro di malintenzione Hai un occhio solo Non fai tutta questa strage Non è un'anomalia così grave E la vista a me Oh che bello ci vedo di nuovo Tra l'altro che figo ho I colori di... Due colori diversi Ho gli occhi di due colori diversi Allora intanto l'unità ottica l'ho trovata Quindi va bene così Quindi posso usare la scansione Allora se tutto cos'è Incompatibile ok Processo audio incompatibile Quasi Se è stato troppo bello Una cosa Una al primo tentativo Non chiedo troppo Anche ho un regolatore di pompa Questo sembra Andato Processore audio Va bene Non mi dispiace Ah proprio Proprio Grazie Grazie proprio Il tipo ti serve Non ti preoccupare Già lo sapevo che sei Stai venuto E anche il regolatore di auto è andato Perfect E adesso piove Che bello ascoltare il rumore di rapiotto eh Non ti dimenticare Praticamente manca il regolatore di rapiotto Spero sia quello Spero Spero Basta Basta Non voglio più vivere Fai in fretta No dai no Ah però t'ho fatto Vabbè T'ho fatto Mi dispiace molto Ah bello Questo non me lo so Questo sembra Puoi più vivere Aspetta ti prego Ti prego non farlo Scusa sei una discarica Sei una dannatissima discarica Senza gambe Come Vabbè 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 Come Scusa sei una Senta il resto, condizioni stabilizzate. Senta il resto, condizioni stabilizzate. Adesso impareremo a scalare le montagne con Marcus. Soprattutto le montagne di monnezza. Però vi ho detto così. Allora rampicarsi. Mettere la mano avanti. Quella destra, oppure se siete mancini mettete prima quella sinistra. Oppure non so se è la stessa cosa. Y, nel caso dovete aggrapparvi a qualche punto. Y, di nuovo. Non stavo premendo Y. Stavo mettendo X. Stavo schiacciando. Mi sto confondendo da soltanto. No, R, R, T. Madonna, Madonna, R, L, B, R, T. Ok. R, B, L, L, B. Ok, no. Stavo schiacciando. Adesso diamo. No. No, 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 no. Suono. Come non scalare una montagna con Marcus e Splendor. Come non scalare una montagna con Marcus e Splendor. Ok. Qui ci sono arrivato bene. Ok. Ok. Ho premuto Y a tempo proprio. Già fatta. Mo' tipo urla Adriana come si sa che cosa. Sarebbe il top. Comunque che figati gli occhi di colore diverso. Sta per urlare Adriana? No, non sta per urlare Adriana. Controlla. Eh, si vede il coso, sì, esatto. Cos'è sta roba? Ma è tipo ferro? Stappa cos'è? No, ma... Madonna, stappa. Stappa? Ok. Che è sta figata? Sembra... Sembra slime e robe. Ma no. Questo sarei cheat però, eh. Questo sarei cheat. Alzati e cammina. Poi lasciare, se non mi vuoi scendere. E vai! Primo piano su Marcos. Mi chiamo Marcos. Detta così, se mi più franco e sta in prof. Io beh, ok. Fate. Va bene. Vestito preso totalmente a cazzo. Ok. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate mi piace, commentate, se volete commentare, condividete il canale, Instagram, Twitter, Instagram, tutto quanto in descrizione. E noi ci rivediamo nel prossimo capitolo. Bellissima! 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 Bellissima!